Il mercatino del giovedì si farà in sicurezza. Con questa formula riparte anche quest'anno, dopo l'edizione 2020 con grande sforzo, il mercatino delle occasioni e dell'artigianato che caratterizza Fermo ormai da 39 anni. Il primo appuntamento sarà giovedì 1 luglio e poi si svolgerà per tutti i giovedì di luglio ed agosto, dalle ore 17 alle 24, come di consueto. Si tratta di un mercatino in cui l'artigianato è il protagonista principale. Non un antiquariato di qualità con mobili di valore, bensì tanta oggettistica vintage, libri antichi, con la soddisfazione di cercare e trovare qualcosa di particolare nei banchi che sono creati appositamente dagli espositori. Le novità di quest'anno, tra i 160 espositori presenti, sono rappresentati da una signora inglese che viene da Mandola che farà vedere il metodo antico di produrre la carta e poi ci sarà un'altra novità assoluta, un gruppetto ecologico che lavorerà in legno. Abbiamo continuato questa tradizione perché siamo stati sollecitati da varie parti e tutta questa solidarietà che abbiamo trovato intorno a noi ci ha dato la spinta e il coraggio di poter continuare nonostante la situazione veramente drammatica che stavamo vivendo. Ci sono due iniziative che punteggiano l'estate fermana, è il mercatino e il palio. E' questa la bellezza che riscontriamo soprattutto nella risposta del pubblico. Il giovedì è anche l'occasione per tenere aperti tutti i musei cittadini fino a notte fonda e in particolare la civica biblioteca Romolo Spezioli che ogni anno di giovedì apre le porte a visitatori mettendo in mostra non solo gli affascinanti locali ma anche i grandi tesori in essa custoditi. E quest'anno ci sarà una particolare novità. Il mercatino per noi è una grandissima opportunità e siamo tanto grati agli organizzatori che ci tengono sempre in palmo di mano. E quest'anno abbiamo cercato di aprirci molto al pubblico con un'iniziativa che li coinvolga direttamente, che coinvolga i visitatori. Dato che avremo comunque il contingentamento per cui l'entrata per gruppi abbiamo pensato di dare l'opportunità a ciascuno che verrà in visita di leggere il proprio libro delle emozioni agli altri. Quindi una lettura a voce alta all'interno di un programma che è un programma ministeriale perché è stato lanciato dal MIBACT proprio un lettura day il giovedì ed è stato pensato proprio per far entrare i libri in tutti gli ambienti e in tutte le situazioni. Abbiamo pensato subito al mercatino che con il libro ha un forte nesso, con la biblioteca ancora più e quindi ci auguriamo che sia una bella opportunità per poter condividere quell'atto che di solito è molto solitario che è quello della lettura per farne partecipe anche gli altri. Grazie 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 Grazie